Per molti l'auto idrogeno sarà il futuro della mobilità e noi di Autotecnica siamo qui proprio con la Hyundai Nexo, una delle pochissime auto di idrogeno in circolazione, per capire quale sarà l'evoluzione dell'auto. Ve lo spiegheremo sul prossimo numero dedicato alle auto elettriche in tutte le loro declinazioni, dalle ibride maed hybrid alle plug-in hybrid fino a queste auto molto sofisticati idrogeno.